Scarpe, cappotti, borse e accessori. C'è un po' di tutto nel charity shop della Ronda della Carità che solo per oggi ha aperto i suoi battenti in via Garbini 10. Un'iniziativa partita in primis grazie alla generosità dei cittadini che invece di buttare i capi di abbigliamento inutilizzati o di accantonarli in un angolo dell'armadio decidono di donarli a chi ne ha più bisogno e tra questi i senza tetto seguiti dalla Ronda. Ciò che non viene distribuito, soprattutto abbigliamento femminile e per bambini, viene saltuariamente esposto e venduto nell'emporio secondo il principio dell'economia circolare. Ecco, questo noi lo chiamiamo charity shop e non può essere aperto con regolarità perché per ragioni fiscali noi vendiamo, diciamo che offriamo degli indumenti portati dalle persone a un riuso. Ci sono anche cose nuove che vengono regalate da alcune case, che ci portano dei giacconi, abbigliamento fondamentalmente per gli uomini che noi assistiamo alla sera, che sono i senza tetto a cui si porta anche da mangiare, eccetera. L'abbigliamento che non viene utilizzato per queste persone, tipo il femminile e i bambini, viene appostato in questo negozio dove apriamo saltuariamente, tipo oggi, siccome è rinnovato e lo abbiamo aperto tutta la giornata, e saltuariamente viene aperto e stiamo già avendo anche un buon successo, pur essendo mattina alle 11, diciamo che oggi in particolare è stato proprio pubblicizzato anche su Facebook e quindi ci sono persone di tutti i tipi. Abbiamo magari riservato la prima mezz'ora, un'ora ai rondini, così li chiamiamo, che sono tutti i nostri collaboratori, persone che fanno volontariato in ronda. Adesso ci sono tutte persone non bisognose che vengono e acquistano e vedo con molta soddisfazione che apprezzano i nostri capi perché, ripeto, ci vengono selezionati attentamente prima di essere messi qui e ci sono tante belle cose. Ad entrare nell'emporio giovani adulti, ma anche bambini, che acquistando uno o più capi potranno dare un aiuto concreto ai volontari della Ronda della Carità. Il ricavato viene utilizzato per acquistare quello che non abbiamo in donazione, quindi la biancheria sempre per queste persone senza tetto o anche alimenti perché noi viviamo tanto di donazioni ma ci sono delle cose che bisogna anche comprare. Grazie a tutti.